Workout con focus sul core addominale di media intensità da 10 minuti. Prepariamo il tappetino e iniziamo l'allenamento! Crunch, mani al petto. Benissimo! Movimento lento. Manteniamo la respirazione sempre attiva, mi raccomando. Bravissimi, cambiamo. Ci riposiamo fra un secondo. Stop, benissimo. 10 secondi di riposo. E passiamo al prossimo esercizio che sarà questo. Ok? Tra uno, via! Tocchiamo la caviglia con le mani. Benissimo. Rimaniamo sempre in contrazione con l'addome. Bravissimi ragazzi! Forza! Ancora qualche secondo e poi ci riposiamo. Respirazione attiva. Stop! Benissimo! Il prossimo esercizio sarà il crunch inverso. Magli leggermente sotto il sedere. pieghiamo le ginocchia. Via! Via! Ci fermiamo lì, non arriviamo fino in basso. Respirazione sempre attiva. Manteniamo il ritmo. Manteniamo il movimento. Ancora per qualche secondo e poi ci riposiamo. Benissimo! Stop! Il prossimo esercizio sarà la sforbiciata. Quindi, mani sempre leggermente sotto il sedere. Distendiamo le gambe e partiamo. Via! Questo, gambe tese, punte tese. Bravissimi! Manteniamo il ritmo. Respirazione sempre attiva. Bravi! Forza che ci siamo casi! Ancora 3, 2, 1, stop! Bravissimi! Il prossimo esercizio è appoggiare il piede sopra il ginocchio opposto. Con il gomito andiamo a toccare il ginocchio. Via! 1, forza! Cerchiamo di toccare il gomito con il ginocchio opposto. Bravissimi! Manteniamo il ritmo. Respirazione sempre attiva. Ancora qualche secondo, poi ci riposiamo e cambiamo lato. Stop! Bravissimi! Fermi! 10 secondi di riposo. Intanto posizioniamoci. Mano destra dietro la testa. Partiamo fra l'uno. Via! Andiamo a toccare il ginocchio nel gomito. Respirazione sempre attiva. Bravi! Mi raccomando, con attenzione. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1, stop! Breve pausa e iniziamo con il secondo giro. Ok, iniziamo! Crunch, mani al petto. Manteniamo bene la respirazione. Sempre attiva, ragazzi. Mano bocca. Naso bocca. Inspiriamo ed espiriamo. Ancora per qualche secondo e poi ci riposiamo. Stop! Benissimo! Prepariamoci. Una mano dietro la testa e l'altra sopra. Partiamo fra due. Uno. Via! Questo uno. Forza! Manteniamo sempre la respirazione attiva. Concentriamo sull'addome la forza. Ancora qualche secondo e poi cambiamo posizione. Due. Uno. Stop! Riposiamoci dieci secondi. Intanto ci prepariamo. Mano dietro la testa. Partiamo fra tre. Due. Uno. Via! Bravissimi. Manteniamo il ritmo. Bravi ancora. Manteniamo sempre la posizione corretta. Ancora per qualche secondo. Poi ci riposiamo. Stop! Benissimo! Prossimo esercizio. Criss-cross con gambe a terra. Ci prepariamo. Mani dietro la nuca. Via! Questo! Tocco. Cerco di toccare il ginocchio al gomito e riappoggio i piedi per terra. Ancora qualche secondo. E poi ci riposiamo. Prossimo esercizio. Bravi! Benissimo! Stop! Bene! Ok! Ci prepariamo. Mani lungo il busto. Fra due. Uno. Via! Questo! Stiamo sempre concentrati. In contrazione. Bene! Forza ragazzi che ci siamo quasi! Tocchiamo la mano con la camiglia. Ancora qualche secondo. E poi ci riposiamo. Due. Uno. Stop! Benissimo! Bravi ragazzi! Mettiamo le mani sotto il sedere. Incrociamo le gambe. Partiamo fra due. Uno. Via! Grazie inversi! Manteniamo sempre la posizione. Manteniamo la concentrazione. Bravissimi! Respirazione sempre attiva. Ancora qualche secondo. Tre. Due. Uno. Stop! Bene ragazzi! L'ultimo esercizio che sarà il crunch due movimenti. Magi al petto. Mi raccomando. Partiamo fra due. Uno. E questo. Uno. Due. Scendo. Uno. Due. Scendo. Bravissimi! Due. Scendo. Uno. Due. Adi concentrati. Benissimo! Manteniamo il ritmo. Respirazione sempre attiva. Ancora due secondi. Stop! Breve pausa e ultimo giro del nostro workout. Ok. Iniziamo! Sit up! Benissimo! Scendiamo e arriviamo a toccare la punta dei piedi. Manteniamo il ritmo. Manteniamo il ritmo. Scendiamo controllati. Bravissimi ragazzi! Inspiriamo. E buttiamo fuori. Respirazione sempre attiva. Ancora qualche secondo. Poi ci riposiamo. Tre. Due. Uno. E stop! Benissimo! Twist! con gambe in appoggio sarà il prossimo esercizio. Quindi piedi bene posati per terra. E giriamo via. Destra e sinistra. Bravissimi! Mani unite. Manteniamo il ritmo. Respirazione sempre attiva. Ruotiamo bene il busto. Bravi! Benissimo ragazzi! Forza! Ancora qualche secondo. E poi ci riposiamo. Forza ragazzi! E andiamo! Stop! Benissimo! Appoggiamo le braccia dietro il busto. Criss cross con braccia in appoggio. Fra due. Uno. Via! Questo! Manteniamo il ritmo. Distendiamo bene la gamba. Mi raccomando ragazzi! Forza! Ancora! Petto in fuori. Scappone attive. Benissimo! Manteniamo il ritmo. E manteniamo sempre la respirazione attiva. È importantissima in questi esercizi. Ancora 4, 3, 2, 1, e stop! Benissimo! Ti stendiamo. Crunch e due movimenti. Mani al petto. E ripartiamo fra 3, 2, 1, via! 1, 2, scendo! 1, 2, scendo! Bravissimi! Forza! Manteniamo il ritmo. Forza che sono 30 secondi di lavoro. Bravi ragazzi! Mi raccomando! Respirazione sempre attiva. Inspiriamo. E buttiamo fuori. Importantissima! Stop! Benissimo! L'ultimo esercizio del nostro workout. Mani lungo il busto. Clance e tocchiamo le mani alle caviglie. Via! Questo! Ricordatevi che sono 30 secondi. Cerchiamo di mantenere il ritmo. Ed è importantissima la respirazione. Per arrivare fino in fondo al nostro workout. Forza! Benissimo ragazzi! Forza! Diamo tutto che abbiamo così fatto! Forza! Ancora! Ancora 5! 4! 3! 2! 1! E stop! Allenamento terminato! Iscrivetevi al canale TL Fit e cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati! No! E la str. La str. S. Mmm.